bello a tutti ragazzi bentornati bentornati sempre qui allora stiamo iniziando una nuova missione scusate sono un po giù ma è stata una giornata difficile per il master abbiate pazienza è stata una giornata difficile ragazzi dobbiamo aiutare sta gente qua io non mi ricordo già più niente giocando su vabbè sai che devi riprendere un po' confidenza dobbiamo cambiarci anche i vestiti questo è un po' confidenza Sono già già già, e sai perché non è morto? Non credo aiutori. Certo. Non siamo iutori. Devo provare a te. Ok, ti raccomando. Arthur! Bob Crawford e i loro bambini comprimono un giocatore di stagione per una stagione. È nel loro bambino. Voi prendere quello. E poi possiamo lavorare insieme. Chi è Bob Crawford? Un'acquaintante. Quindi ti chiede a uscire la tua competizione? Ci siamo, eh, non è che siamo morti, però... Volevo far passare il dialogo. Abbiamo anche un po' di money in quella casa, ma è il tuo business, non il mio. Non uccidere nessuno. I ragazzi, no, non siamo più intime. Sanno che è io. Ma sei bene con noi, Rob e il tuo cusino. Il mio marito. E sì, lo amo. Il mio marito è il tuo cusino. Il mio marito. Vabbè, devi rirapinare il suo cugino acquisito. Comunque sta storia che se hai vestiti sbagliati ti passa la salute più in fretta, è pazzesca. Perché senti caldo e quindi ti affatichi di più. Ma, e poi scusa, mi sembra di essere vestito uguale a questo. Sì, anche a me. Ci pensavo mentre parlavate tutti insieme. Perché l'altro, ok, era in canottiera. Andiamo? No, aspettiamo un po'. Eh, non so, non si muoverà. Passiamo tempo. No, non ce l'ho con te, ce l'ho con lui. Aspettiamo tempo. Vai a Carmo di Bella. Perché il cane ce l'ha con te? Non saprei. Non voglio neanche saperlo, se possibile. Pure questo qua. La gente è più ostile che in Assassin's Creed quando sei cattivo. Ma, stiamo andando dalla parte... Sì, sì, sì. C'è la striscia gialla. Ma è lontanissimo. Vabbè. Di qualcosa bisogna pur morire, no? Di noia. Vabbè, dobbiamo andare dal cugino di sto qua. Che bel cavallo robusto che hai, Master. Ti piace. Tipo re nero. Sì, è bello tosta. Ma si vede, mi vale il doppio del suo. Sì, sembra tipo la coppia cicciona. Sì. Tipo Stanley Ollion. Sì, gli Stanley Ollion dei cavalli. Tra l'altro parlano sempre, questa è la cosa... Meno mai ci sono i sottotitoli. Sì, perché devo dire che questo gioco hai anche... Cioè, anche del... Premi rapidamente X in sincrono con il galoppo del tuo cavallo, farà sì che la sua resistenza non si consumi. Questo è per impegnarti il tempo mentre corri, praticamente. Ma, secondo te è vero? Beh, spero. Cioè. Però devi essere in sincrono. Così? Boh, che reazione sono? Dipende se la resistenza si... Boh. Boh. No, perché non so valutare. Perché lì si illumina un po' di rosso, però... Sì, esatto. Anche io stavo giocando di vedere la reazione del cursore. Però non è che proprio vada giù. Chiarissimo. Vabbè, tanto non è che devi fare la maratona col cavallo per ora. Le sottolineo per ora. Comunque sento un sacco di gente parlare benissimo di sto gioco. Gente entusiasta, eccetera, eccetera. Ma, ehm... Vabbè, bello, bello, dai. Bello, bello. Io... Cioè, non le dico quale, quello che penso. Perché... Quello che penso, perché tanto, cioè, non ha senso. Cioè, non voglio demotivare la gente che ci guarda. Però voglio dire... Secondo me i due macro difetti... Te l'ho detto. Sì. Beh, comunque, allora, la prima cosa da dire in generale... Uno è questo qua. Cioè... Sì, beh, esatto. Senza andare tanto lontano. Ma no, in generale, cioè, se tu compri un gioco così, devi essere pronto a giocare un gioco così. Quindi, farti pezzi di trasporto, beccarti dialoghi, aspettarti un gioco lungo e quant'altro. Se uno lo compra aspettandosi di finirlo in 4-4-8 e sparare alla gente come se fosse Max Payne, ha sbagliato. No, in verità i difetti principali che... No, no, questo dicevo in generale, perché, cioè, quando prendi un gioco così, devi sapere cosa ti aspetti, devi avere tempo per giocarlo, secondo me, soprattutto. se no, sei destinato a lasciarlo lì. Cioè, ogni gioco deve essere in là. Quindi... Ma tu vedi qualcosa? No. Io non vedo un cazzo. Però c'è il fumo della casa, quindi qualcuno c'è di sicuro. Mi avvicino e distrago con un piccolo spettacolo, mi sono tutti in truffoli. Cosa può andare sto? Niente. Scegli, giorno o notte? Tu cosa suggerisci? Fai il giorno. Cioè, è uguale, sostanzialmente, non è il camminente. Stato, tu devi sempre entrare in casa. Magari nella sera sarebbe stato più... Ma sti cazzo, c'è tanto... Tanto se va storto, va storto, se è il giorno e di notte, quindi... Poi è più carino, dai. Allora, facciamo così. Madonna, come sei aggressivo per intruforarti nella casa. Non mi dico... Ah, ecco. Ma come si muove? Sembra tipo quasi in motore. Sì, è vero. Ah, Igor, le sembra? Allora, vediamo un po' se... Ma lui come pensa di... Ma lui ha detto che fa uno spettacolo, quindi andrà lì davanti e dirà due calzate. L'elicottero? Sì, più o meno. Gli fa il test del campo di fragole. Rubo oggetti nella casa per un valore pari a 45 dollari. È il tuo padre a casa, figlio? Assolutamente è. Poi, 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 qui. Va dall'inferno, mi è piaciuto. Beh, quella bibbia mi sembra molto preziosa. Guarda, guarda, lì nella dispensa, lì... Immagino che sia... Non c'è niente? Ho le... Sì, no, c'è, c'è, non puoi prenderlo. No. È inutile che stai basso, tanto... Ma, secondo te, troviamo qualcosa... Ma devi trovare... Prendi. Mazzetta di banconote, che mi sembra... 6 a 20, vai. Beh, eh... Vediamo cosa c'è. Vai, vai. Proprio... Olè. Cosa... Hai trovato qualcosa? Un orologio d'oro. Che vale 10 dollari, quindi c'è, è fatto... Che oro è? C'è anche un fuga nel caso... Tra l'altro lo lasciano all'ingresso, mi sembra... O all'uscita, diciamo. Giulio, posso dirti che non mi sento confident? Eh, ma se tanto, se non ti senti confident, poi gli spari. Cosa ti devo dire? È la prima volta? Cioè. Ci sei? Puoi andartene. Sì? Sì, sì. Sei a 49 su 45 che dovevi fare. Raggiungi la stalla senza farti vedere. Sì, magari chiudere tutto potrebbe essere un'idea, ma... No, ma perché? Occhio! Madonna, che... Ma dove è la stalla? Cosa ne so, io adesso perteni troppo da me. Ah, ok. È di qua la stalla. Sì. Mi piace quando corre tipo quasi in modo... Quasimodo Adams. Dove si entra? Da davanti? Faccio questo... Non so se devi entrarci, eh. Però... Aspetta, o se è nella stalla, è non davanti proprio alla entrare, ma ecco. Ma poi perché nella stalla... David Dodd... Stagecoach. Poi perché nella stalla... Cioè... Cioè, potete andare tranquillamente dove eravate prima, no? Facili prima? No? Brutto? Dici che sbaglio io? Non ho idea. Non sbaglierò io. Bravo. Fatti calciare dal cavallo. Ma scusa, cioè... Devo aspettare qui, no? C'era scritto aspetta cosa nella stalla e noi lo aspettiamo qui. Vediamo se possiamo... Oh, sei arrivato. Ah, proprio prendere la diligenza, questo non lo noterà mai nessuno. Puoi anche non stare più stradato, eh, devi salire. Ci fidiamo? Eh, cosa devi fare? È questo che devi fare. Non è che hai alternativa alternativa. Tra l'altro, cazzo, ma ha preso il mio posto. Cioè, sarà stronzo. Guarda, andiamo di qua. Ti piace la mia nuova pettinatura? Sì, molto. Ma anche la giacca. Sì, ok. Eccomi. A bordo. Riporta la diligenza. Intanto si apre da solo il... Vai. Questo non lo nota, no? Se ne sono accorti. Che strano, eh? Sì, cioè... Chissà se chiudevi la roba se ne accorgevamo più tardi. Ma ne dubito. No, è una domanda generale. I passi davanti al vialetto con la... Eh, ma lui non ha detto ci hanno rubato la diligenza. Ha detto ci hanno svuotato il baule. Che, infatti, nel senso delle priorità, che comunque è sbagliato. Vedi, vedi? Sì, scusate. Vedi, vedi? E ti avevo detto di chiuderli. Sinistra, sinistra, sinistra. Sinistra! Sì, sì, sta facendo il giro Giulio, ho sbagliato. Sì, sì, sta facendo il giro Giulio, ho sbagliato. Eh, no, sicuro. Non mi ricordo di questo in un'epoca. The Ravenant. No, perché abbiamo affrontato un orso, lunga storia. Vediamo cosa dicono. Ci stanno... Ci la stanno raccontando. Sinistra. Sinistra. C'è il mio cavallo che mi segue, non so se sei notato. Infatti... Eh, tanta roba, eh. Bravo, cavallo. Oh, oh, cavallo. Siamo alla sinistra. Siamo tornati qua. Metti la dirigenza nella stalla. Oh, mamma. Un coniglio. Oh, mamma. Cioè, adesso non... Scemo. Sì. Bah. Per questo li abbiamo derubati. Eh, non se ne accorgeva mai nessuno. Cioè, tuo cugino non verrà mai da te a chiedertela, no? Soprattutto tu hai nascosta... Eh, veramente stealth. Dobbiamo decidere cosa fare, master. Parla con lui. L2. L2. Eh, ti ho detto se vuoi tornare al campo con lui o no. Aspetta un attimo, scusa. Ma noi dobbiamo andare, perché se abbiamo un'altra scoppiettante missione... Non abbiamo un cazzo di niente. No, un cazzo. Allora, sai che ti dico? Torniamo con lui. Eh, beh. Certo. Che dobbiamo fare? Ciao. Andiamo. Ciao. Vero, ma sei tu che conosci la mia, rega. Però, scusa. Solo una volta me... Me è arrivato... Vabbè. Vabbè. Mi piggi un attimo, X, per andare lì. Segui un attimo. Scusa. No, no. Scusa, la vita è indiretta. Ma... Cioè, sono orientato in una direzione umana o... Missione completata. La spina dorsale dell'America. Ok? Devo scendere? Sì, devo scendere. Allora, ho imparato anche a scendere da cavallo. Che bravo che sono. Oltre ad acquistare cari rubati, Simus è anche un ricettatore. Una brava persona, comunque, nel complesso. Recati da un ricettatore per vendere oggetti preziosi e acquistare beni illegali o per creare talismani e omleti. Ma beni illegali cosa intende? Eh, no, no. Non so cosa ci sia di illegale, di preciso. Mappa? Sì, sì, sì. Bravissimo, mappa. Allora, è comparso lì. È una lettera, deve andare da lì, esatto, e vedere. Devo andare da lì, ho detto. Andrea da lì, esatto. È vietato correre in questo gioco? Eh, quando sei nel campo... Ma stanno suonando... C'è un banjo? Ma io sto male. Si può suonare il banjo? No, purtroppo. Come no? Sarebbe stato troppo bello. Ma come no? Quindi hanno deciso di non... Cioè, puoi vedere le palle dei cavalli, ma non puoi suonare il banjo? Ma io protesto. Io protesto formalmente. Scusate per la sirena. Scusate. Chiudi, tanto. Chiudo. Scusate. Voleviamo a saltare un tren, no? Eh, non ho pensato. Stopping a tren, pain in the air. Sure. But what if we could force a tren to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable. Oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. No train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. And that is real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Ma questo ha lottato con l'orso, per caso? No. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more. No, lupi. So, we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old run-down shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Maybe getting somewhere near there. Bene, dobbiamo raccogliere i materiali per assaltare il treno, ma sì, ok. È un po' di cose da fare in giro. Vai, gira indietro. Sono comparsa due missioni o sbaglio? Non sbaglio, ma perché è la stessa probabilmente. Michael Bell. Micah, Micah. Come Micah Richards. Che non è quella... Micah ti ha chiesto di incontrarlo nel suo accampamento nei pressi di Subaru. E l'altro la carro cisterna. E questo è veramente quello che devi attaccare. Prova, prova, provati a cliccarci sopra, come hai fatto prima. Non ho fatto niente, prima mi è comparsa da solo. E quindi cosa facciamo? Prima facevo così. Sì, dai, andiamo lì. Prima facevo così. E mi compare da solo, vedi? No, andiamo lì. Imposta meta? Sì. Perfetto. Prego, cavalchi pure. Allora... Cavalchi, cavalchi. I carri che puoi rubare per John sono contrassegnati con quel simbolo. Allora, prima di tutto dormo un attimo, ti dirò. Perché qua il difetto è che dovete mangiare, bere, cacare, lettere, testamento. Però non mi ha più detto del... Non mi ha più detto del... Del vestito, no? Eh, del vestito. Quindi cosa faccio? Mi cambio o lascio lì? Ah, però lascio qua. Anche perché passerà del tempo, magari fa più freddo poi. Ok. Allora, perfetto. Ah, ma aspetta, sono comparse più... Aspetta, 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 aspetta. Ci sono più wheels, hai visto? Sì, e prendi su tutti i tre i carri che puoi assaltare. Beh, uno lo dobbiamo assaltare. Per forza assaltare. Però prima? Ma prima? Andiamo lì. Che poi non... Lì non so cosa sia, però... Nel... Dove abbiamo messo l'indicatore? Sì, sì, te lo dire. dove cazzo ha parcheggiato il cavallo dove sono sceso non lo so qua vicino non è che ho fatto troppo a strada è quello là chiamalo era qui eccolo lì in teoria era ancora più di là dove sono arrivato sono sceso non è che sei pronto? no allora aspetta un attimo qui è un po' che non mangiamo c'è scritto cocaine chewing gum o mi sbaglio? no 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 allora provviste salmone scatola sai che c'è un modo? aspetta c'è un modo perché uno dice giocatore allora siamo nella media nella media 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 temperatura media e allora sti gazzi no non cambio il vestito non faccio niente ma poi ti ho detto adesso è notte quindi fa di sicuro più fresco il problema è di giorno poi e beh immagini si mi fa di trento solo uno ti è appena svegliato eccoci qua vai giulio ti do un attimo il cavallo scusa perché c'è devo seguire il rossone il rossone ecco come corro come dico il cavallo di correre ok ecco la x sto provando a fare il barbatrucco per non consumare la vita fallendo miseramente io bevo mi sbronzo va bene se lo dici non vai 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 ston vecchi perché c'è un grosso punto di domanda su sta zona e la nebbia non lo saprò mai no il cavallo può camminare in acqua vero? sì ok west elizabeth taglia 290 dollari beh ci sono 6 gradi per forza che non ti dici che c'è troppo caldo west virginia sì lo so che è un altro gioco facciamo recuperare it's a drop non mi rompe il cazzo che non è il momento non faccio missioni secondarie vero? i pallini rossi che nemici sono? eh meglio se te ne vai no ma adesso andando cioè sono tangenziale diciamo a loro ecco chissà si può essere investiti dai 3 c'è un accampamento via che cazzo sono i trisci tac tac allora dovrebbe essere qui e lì sotto si esatto però non volevo proprio buttarmici dall'alto ecco troppo conservativo sai abbiamo il cavolo che fuma che figata uè Marvin Martian sono qua maschina pastorale americana tough boy tough boy tough boy tough boy tough boy seconda stagione di Ken seconda stagione monta cavallo contento diamo appuntamento al prossimo video si dai al prossimo video cavallone mi potevo dare dello stronzo comunque ciao